allora raga e niente ritorniamo qui e dall'altra parte c'era una strada chiusa quindi non potevo proseguire quindi andiamo da sta parte meno ci provo niente siamo ancora una volta su Strait Souls non si capisce bene dove è sta strada sembra un labirinto questo bosco va per fortuna un po di cura anche perché pure la posizione giusta non ve la fa neanche caricare allora qui aspetta altro cartello statue misty lake ma andiamo verso il lago dai ci proviamo stando facendo molta attenzione a quei mostri che sono sempre in agguato qui da qualche parte quando arriva con la musichetta ci sono i mostri e hanno detto che nel gioco è presente anche dei boss secondo me c'è da morire un sacco di volte quindi ora l'apparciare 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 e allora Ancora con Marta, stiamo parlando Ancora con Marta, stiamo parlando Stava in fronte della tv per ore ore quando arriva a casa, guardando le stelle stelle sempre e sempre. Sempre e sempre. Stava a dormire, oppure cambiare i vestiti per giorni. Poi, il minuto. Non è mai lato a noi. Ma non era ancora la stessa. Scusate, Marty. Non ho dovuto chiesto. No, non è bene. Devi sapere che erano i tuoi parenti, anche. Grazie, Marty. Ecco, bravo. Ma un momento, allora... Friciit... Ma dove cazzo devo andare? Proviamo un po' per di qua? Ma... Proviamo. Tanto ho messo qui, raga, che... Dobbiamo girarlo tutto in questo bosco. Sicuramente. Allora... Senti il rumore dell'uscello, dell'acqua. Allora... Tra un po', sicuramente... Qualc'altro incontro. Con quei mostri. I mostri di Silent Hill, direttamente sbarcati in questo luogo. Vabbè... 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 Ranger Misty Swampo. Quindi... Andiamo per di qua, vai. Vabbè... Vabbè... Che cazzo... Ecco... Iniziano i Jump Scare, eh. I maledetti Jump Scare. Cos'è? Che cazzo... Allora... Misty Naker... Ma... Ma... E Andrei di qua... E' un po' per di qua. Vabbè... Cosa è? Cos'è sto rumore che non mi piace? Che cazzo... Ma che succede? Cazzo... Lo wo're. E' un po' per il loro roe. Cuci... Cosa è la fine, po- Cosa è benissimo. Ahia! Oh! ma vai a fare il culo mostro no 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 ma vai a fare il 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 non ma vai a fare il Ma quanti cazzo ce ne so? Che coglioni sti mostri raga Però non mi piace questo suono Allora un po' di munizioni Ok Prendiamole perché Ma ce n'erano altre qui? Allora a questo punto io tornerei indietro qua Che perché mi sa che la direzione era da questa parte raga Ma l'abbiamo preso qui Sembra che si o no Comunque la cure Non è che se ne trovano tante Andiamo un po' da sta parte Ma che cazzo è quella roba Ma cos'è roba delle streghe? Non saprei Che cazzo è? C'è qualcosa che non vante sto bosco Aspettate ma qua c'è interazione no? Allora proseguiamo Uh che rumori inquietanti Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo è? Ah aspetta qua Vai con le munizioni Oh che cazzo è sta roba Che cazzo è? Oh Oh Lucky cazzo PAPANPURO Ma... ma vai a panculo ma vai a panculo ma vai a panculo no 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 ma che cazzo era una specie di king kong zombo boh e continuiamo cosa cosa è una sorta di villaggio ancora marta marta è ancora marta e niente dobbiamo dare uno sguardo qui vabbè raga dai per oggi voglio interrompere qui e questo episodio ci vedremo nel prossimo che ripartiremo ciao a tutti da mister natalini è tutto per oggi quest'anno attra attra